Siamo col signor... Orazio Coclite Benissimo, un cognome impegnativo Orazio, lo sai che la squadra del Napoli finirà sui panettoni? Secondo te è giusto questa la squadra del Sud? Non è giusto nei panettoni del Nord se fin quando non ci mettiamo Jackson Martínez se noi avessimo un Jackson Martínez avanti a Guain, allora potremmo dire peschi tu, che io ho già pescato Quindi praticamente tu Armero come ti è piaciuto con la Lazio? Armero è un doppio doppione mi piace molto l'accoppiamento con Zuniga stanno veramente sulla fascia alle Oro 2 Zuniga non ci sta ma sono una coppia è una coppia di fatto è imprescindibile di questa squadra Zuniga e Armero non possono veramente mancare, come il panettono a Natale ma no, come i Canditi probabilmente non può mancare insieme a Zuniga non possono mancare soprattutto perché fluidificano con abbondanza senza voler nulla a pretendere nella panchina di Mazzarri nella panchina di Mazzarri va bene